Palla sul mincino, c'è una confusione dentro l'aria, allora provo ad uscire Minelli, Crealese, batti ribatti, Panico! Arriva il gol della Provercelli! Legnico 0, Provercelli 1, la rete di Panico al minuto numero 59. Gol meritato da parte dell'ex attaccante di Novara e Genoa per le due occasioni costruite nel primo tempo, dove prima ha sfidato un palo e poco prima ha simbiato il palo alla sinistra di Corvi, quest'oggi invece, questa volta invece trova il destro vincente su un batti ribatti continuo, azione confusa, alla fine Crealese con il mancino favorisce poi una ribattuta Panico.